ciao a tutti eccomi qui sul letto del po bello asciutto e vedremo domani cosa arriverà se arriva neve se arriva pioggia qualcosa arriva speriamo perché qui la situazione è critica sono uscito con la e gravel cosa che farò spesso d'ora in avanti visto che non ho più le bike e la conway non ho tanta voglia di farmi trail per cui preferisco usare questo qua e gravellizzare ritorniamo gravellizzare poi vedremo il poi così adesso vado lassù salgo su per strade traverse arrivare bello e poi si vedrà e adesso sigla ed eccomi qui in mezzo ai campi tutto il monviso che debolmente appare l'orizzonte in mezzo alle montagne ahhh che bello grazie girare così mi piace un sacco riprendo ad apprezzare il mondo grave via albenga originale via albenga qua possono riprendere dei dettagli ecco mi devo ricordare di questa chiesetta in mezzo ai campi che mi fa da punto di riferimento e oggi ho dovuto essere alba ai caffè però era ancora un po' raffreddato la giornata non sembrava delle migliori e allora ho rinunciato siamo infilati in mezzo ai campi la ricordo questa la ricordo questo pezzo speriamo non ci affangono questo è lo spirito grave che mi piace l'avventura lenta cosa antica vecchi castelli madonna proteggimi tu no non è una maglionina è un san giuseppe un fan vabbè sono qua in via la sotto sono stato attaccato da due cani uno era piccolino e l'altro era grosso ma non cazzo a niente non mi hanno attaccato attaccato è il clickbait non lo userò ed eccomi qua sullo sterrato sopra il castello di Revello che ho visto che hanno rifatto dei pezzi di strada si hanno sistemato bene ho fatto un ottimo lavoro questo è proprio un percorso a misura di gravel e gravel perché comunque c'è la sua fatica sto morendo nonostante il motore ok devo ammettere che l'ultimo pezzo l'ho fatto a piedi però ci fatica anche col motore anche per gli altri non ha un motore un motore di metà potenza solo 42 Nm quindi qua c'è una bellissima vista c'è una fantastica vista sul Revello ecco qua bellissima e adesso continuo su adesso sto andando a vedere un po' la situazione sono qua poco sotto la cappella di San Bernardo vado a vedere qua se è cambiato qualcosa se hanno aperto qualche sentiero nuovo magari hanno fatto nuove strade chissà chissà ed ecco è arrivato qua il pianoro vedo che hanno cintato un po' meglio questa discesa anche se comunque è decisamente impegnativa ed enduristica e poi invece c'è l'altra alternativa che prosegue di qua anche questa sembra che l'abbiano ripulita prima andando a vedere un pezzetto se l'abbiano ripulita si pulita ma non troppo congole andiamo a vedere tutto il ramo qua eh no altro ramo un po' come la situazione 600 metri c'è un sentiero che va giù 600 metri sono tanti eh no no torniamo indietro proprio un'altra volta un'altra volta che ci abbiamo avuto un'altra volta che ci abbiamo avuto poi con tutto questo fogliame niente a trovarsi con scatti e con la gravel meglio di no un po' come la fronte non ci sarebbe più tranquillo vediamo ancora uno sguardo qua al precipizio eh scendere di qua è già tosto eh con la commo si potrebbe fare un po' azzardato bisogna lasciare andare non è da me infatti è per quello che la commo le devo andare e qui sopra c'è qualche sentiero che vedo qualche guarda un po' sembra un ripido quello lì che ci fa questo ripido qua questo sembra un ripido che arriva da sopra cazzo probabilmente ci sentiero dalla croce anche quello è da provare a vedere mi sembra abbastanza intelligente abbastanza se non ci si ammazza ok 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 posso tornare giù ciao ciao ok eccomi tornato a saluzzo saluzzo vecchio dove mi piace sempre stare e niente il giro è andato molto bene le grave ancora una volta mi ha soddisfatto molto è sicuramente la bici migliore che ho cioè più adatta a me perché posso andare dappertutto allo stesso tempo non mi stufo se faccio anche dei percorsi stradali su strade secondarie vado su sentieri vado dappertutto non ho problemi e dove ho problemi di andare tanto sono posti dove non andrei comunque e quindi va bene così ok vi saluto questo è tutto alla prossima ciao ciao